appassionati e collezionisti bentornati sul mio canale molto probabilmente questo sarà l'ultimo video dedicato alle scorse rea 23 24 direi che ne abbiamo parlato anche abbastanza abbiamo mostrato la differenza tra i box tra i pacchetti abbiamo fatto vedere cosa siamo riusciti a trovare all'interno di box fat pack ma soprattutto di cosa abbiamo tirato fuori nel case scorso naturalmente per chi se lo avesse perso vi lascio il link per rivedere il pool del case scorso rea un pool decisamente molto molto fortunato perché infatti siamo riusciti a trovare naturalmente oltre le varie firme di gran giocatori e naturalmente le case it anche la firma di ibrahimovic in maya milan numerata su 25 e visto che il case è stato acquistato da diversi ragazzi mi compreso abbiamo deciso che anziché estrarre il fortunato vincitore di quella carta di venderla così com'è e con ricavato poterci rifinanziare un altro case e così è stato infatti siamo riusciti a venderla per la cifra di 700 euro più spedizione in giappone naturalmente tramite ebay e naturalmente abbiamo aperto il case nuovamente tutti insieme in live per goderci questa serata insieme e abbiamo tirato fuori una one of one di uno dei giocatori forse più forti di questa serie a ma prima di vedere il pool vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina mi raccomando e lasciare un bel mi piace se questo video è di vostro gradimento infatti proprio grazie al vostro supporto potrò portare contenuti sempre più interessanti almeno spero e curiosi proprio per voi collezionisti ed appassionati e naturalmente vi ringrazio già anticipatamente per tutto il supporto che mi state offrendo e se poi vuoi essere aggiornato quotidianamente su tutte le novità sul mondo delle figurine e cards sportive mi raccomando seguimi anche perché sono molto disponibile a risponderti a qualsiasi domanda dubbio curiosità direttamente in direct ma se avete anche domande da ponmi qui su youtube non esitate a scrivermene in commento qua sotto domande curiosità i vostri pool insomma tutto quello che riguarda questa collezione fantastica e che quest'anno è stata ricca di tante belle carte compresa quella che vi mostrerò dopo la sigla e non so se avete capito quante carte ho da sistemare ben 2000 perché per due case quindi sono 4000 carte che dovrò dividere poi con tutti i lavai ragazzi cercando di fare quanti più set possibili naturalmente vi farò sapere anche quanti set completi base siamo riusciti a realizzare con due case ma naturalmente quello che a voi interessa è vedere il pool delle numerate ma io devi passare quindi subito a vedere le numerate partendo dalla numerazione più alta quindi quelle su 30 come potete vedere sono tutti swirla perché abbiamo aperto box retail quindi con le red cominciamo con l'ovato della salernitana di gregorio monza friend group luke car del genoa rovella lazio su quelli milan politano napoli falcone lecce e danilo juventus direi quindi di passare poi alle numerate su 25 cominciando da pazzini empoli rookie card e cabral salernitana ancora rookie card baldanzi qua ancora in maglia empoli dragosin in maglia genoa ciao del milan scalvini dell'atalanta e federico chiesa della juve si continua a diminuire le numerazioni infatti abbiamo le numerate su 20 partiamo da l'ovato salernitana pablo marie monza arnautovic dell'inter e bastoni ancora inter per poi completare con dirizzi del bologna adesso le cose cominciano a farsi più seriamente con le numerate su 15 iniziamo da camada lazio crunic del milan chucuese ancora milan simeone del napoli federico chiesa ancora lui e per finire illiz rookie card in maglia juventus ed ecco adesso le numerazioni più basse infatti abbiamo tra le mani tre numerate su 10 partendo proprio da florian toveni dell'udinese matteo lovato che abbiamo trovato anche nelle altre versioni numerate e la score team di dusan vlaovic sicuramente molto molto ricercata dai collezionisti della juventus beh direi che entrambe sono molto ricercate dalle collezionisti juventus anche se il molto ben visto anche da altri collezionisti dopo numerate è il momento di passare alle case it ricordo infatti che all'interno di un case score serie a 23 24 abbiamo la possibilità di trovare ben tre case it una pennant un intergalactic e una next up e partirei proprio dalla next up di volpato del sassuolo per poi passare alla intergalactic di federico chiesa della juventus ovviamente e poi per concludere la pennant del toro martinez fresco campione d'italia anche questa volta una next up non molto interessante ma ragazzi pennant e intergalactic fanno gola veramente a tutti ma ecco il momento delle firmate ricordo che all'interno del chiesa abbiamo possibilità di trovare quattro firmate numerate dalla 199 fino all'eventuale one of one firmata e direi di partire proprio da tosvert in maglia sassuolo numerata su 199 per poi passare a colasinaci in maglia atalanta anche lui 199 e poi dida numerato 199 in maglia milan e per concludere un juan camilo zuniga numerata 99 in maglia lete napoli sì forse eccetto dida le firme non sono granché rispetto naturalmente al case precedente in cui hanno trovato ravanelli ferrara appunto ibraimovic ma comunque il bello deve ancora venire perché come dice il titolo di questo video siamo riusciti a trovare una one of one all'interno di questo case one of one molto molto interessante forse di uno dei giocatori davvero più forti di questa serie a la squadra ormai la sapete ed è la juventus naturalmente one of one lo potete leggere in basso eccola qua la scritta e naturalmente andiamo a svelarci il giocatore passando dal basso visto che il nome è in alto una discreta gamba niente da dire i più esperti ormai lo sanno perché il numero 7 della juventus è federico chiesa ragazzi abbiamo trovato federico chiesa one of one one of one che insieme alla 25 e alla 15 è quasi una rainbow per rainbow si intende tutte le numerazioni e naturalmente i colori di quel giocatore in quella determinata collezione quindi se avete un chiesa su 10 su 20 e su 30 fatemelo sapere nei commenti perché naturalmente l'obiettivo di uno dei ragazzi che ha aperto come il case sarà sicuramente quello di fare il rainbow completo e proprio con la one of one di federico chiesa io naturalmente vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine noi naturalmente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti